Facciamo una breve introduzione di Brennercom e di qual è il vostro mercato di riferimento. Brennercom è una società di telecomunicazioni nata a Bolzano 20 anni fa, iniziando a costruire rete di fibra backbone per i servizi pubblici, poi si espansa fornendo sistemi di telefonia e naturalmente come tutta società telco che ama la tecnologia si è volta ancora per fornire servizi cloud. Quali sono le vostre linee guida sul mercato? In particolare vogliamo sviluppare il canale MSP, molto di più di quanto finora eravamo riusciti a farlo e per questo abbiamo preparato una serie di prodotti pronti per l'MSP però mettendo sul campo tutte le capacità che noi abbiamo perché il fatto di essere una telco ci avvantaggia perché si riesce a fornire non soltanto i servizi cloud che sono la fine dell'istrumento IT ma c'è la telefonia che è al top e on top ancora dei servizi dati. Quindi perché partecipare a MSP Day oggi? Noi siamo sicuri che la nostra offerta per gli MSP vi convincerà, sono prodotti pensati per voi per alzare il vostro fatturato e per dormire sogni tranquilli pensando che tutto lo stack da le telecomunicazioni alla cloud ci pensiamo noi.